Voi per aver reso possibile tutto questo, noi raccontiamo, cerchiamo di trasmettere dei valori, quindi è importante che in partenza la manifestazione li segua in primis. Adesso abbiamo un'altra ospite che lasceremo da sola sul palco perché anche lei, ti dirò, è più preparata di noi. E' qui con noi etologa e divulgatrice ambientale Chiara Grasso. Fai l'applauso, fa la sigla. Non mi ha mai sentito. Bella sigla, bell'applauso. Grazie, grazie Chiara di essere qui con noi, ti lasciamo il palco a te. Grazie, grazie a voi. Oggi pomeriggio voglio parlarvi di ricette di cucina e voi direte, ma perché un etologa oggi nella giornata mondiale della Terra ci parla di cucina? E avete ragione. Però vedete, gli ecosistemi sono esattamente come una ricetta. Una ricetta in cui gli ingredienti si amalgamano, si mischiano, si uniscono insieme fino a creare la torta perfetta. Proprio come in un ecosistema in cui gli elementi naturali, gli animali, le piante, gli alberi, le rocce, i terreni, l'acqua, si equilibrano tra di loro, convivono tra di loro, fino a creare quell'equilibrio perfetto che crea la vita. Però è vero, quando Chiara Grasso si mette in cucina fanno un po' che i pasticci. Io non seguo le ricette, non rispetto le quantità e infatti le mie torte non lievitano mai. Però poco male se una torta non lievita. E' ben più pericoloso invece se è un ecosistema a non lievitare. E questo succede quando l'essere umano, nel corso dei millenni, dei secoli, ha sfruttato la nostra terra che da sempre ci ospita in ogni risorsa. Perché vedete, il problema principale è che l'essere umano, invece di adattare le sue necessità all'ambiente, come fanno tutte le specie della terra, adatte all'ambiente, alle sue necessità. E questo appunto ha portato alla distruzione della nostra terra. E ormai viviamo la montagna come se fosse una pista da jogging, dimenticandoci che la natura, prima di essere un palazzetto dello sport, è casa di altri animali. Che però noi pretendiamo che siano lì fermi immobili, come statuette, che non rispondano all'oristinto primordiale di difendere i piccoli. E quindi, nell'incapacità di controllarli, li vogliamo abbattere, catturarli, metterli in cattività. Ci dimentichiamo che invece di essere il cervo che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. E se solo cambiassimo questa percezione, se solo smettessimo di essere antropocentrici, l'uomo al centro, e diventassimo biocentrici, con la natura al centro, tutto cambierebbe. Noi viviamo in mezzo al bosco, abbiamo una piccola fattoria, ma i predatori non ci fanno paura, perché abbiamo prevenuto il problema. E se mai uno dei nostri animali venisse cacciato, sappiamo che non è colpa degli animali, ma colpa nostra, che evidentemente non abbiamo preso abbastanza precauzioni. Ma non funziona sempre così. Ci lamentiamo tanto del fatto che i cinghiali abbiano invaso le nostre città, abbiano invaso i campi agricoli, ma ci siamo dimenticati che questi cinghiali... Che questi cinghiali... Che questi cinghiali... li abbiamo introdotti noi, proprio per essere cacciabili, proprio perché erano più grandi e più divertenti da cacciare. Ci siamo dimenticati che abbiamo portato al bordo dell'estinzione i lupi, che erano in realtà il primo grande predatore dei cinghiali. E ora, invece di prevenire, cosa vogliamo fare? Ucciderli, ancora, sempre. Così come con le specie invasive. Abbiamo riempito la terra di specie invasive. Abbiamo invaso la terra di specie aliene che hanno occupato la nicchia ecologica delle nostre specie autoctone. E invece di educare e di prevenire, anche qua, eradichiamo, abbattiamo. Capite? Così è un grande macello. I macelli. Avete idea dell'impatto sugli ecosistemi, sulla deforestazione, sull'inquinamento che hanno gli allevamenti intensivi? Oltre ovviamente che sul benessere di milioni, centinaia di milioni di animali. Esattamente come l'industria testile e quella tecnologica. Che sfruttano donne e bambini dei paesi in via di sviluppo, inquinano le acque, deforestano e peggiorano il rischio di estinzione di animali già in pericolo. E tutto questo perché? Perché la nostra società vuole che noi consumiamo, produrre, consumare, comprare. Ma non è finita qui. Io mi occupo di turismo con la fauna selvatica e di benessere animale. Ogni anno più di 500 mila animali, mezzo milione di animali, viene sfruttato per l'industria del turismo, per i nostri selfie. Oggi selfie con la giraffa, domani con la tigre, con l'elefante, con il delfino, con la scimmietta. La vedete? La torta non lievita più. Lo vedete? Il nostro egoismo, il nostro antropocentrismo, il voglio, posto e comando dell'essere umano che disbosca, inquina, distrugge, addomestica, abbatte, trivella. Lo vedete? La torta non lievita più. E io sento puzza di bruciato. Forse il forno sta prendendo fuoco. Insieme al forno, anche tutta casa. Ma dentro casa ci sono io. E c'è anche mia figlia. Ma ci siete anche tutti voi. Grazie tantissime Chiara di essere stata qui con noi. Molto interessante questo legame in qualche modo con la cucina. Mi piace tanto mangiare. A chi non piace. Un po' meno cucinare però. A tutti.